Cari amiche e cari amici, nuova blasfemia del compagno Francesco, ormai, ho detto anche altre volte, gli manca solo di dare le benedizioni ruttando o qualcosa del genere. Sapete cosa ha combinato questa volta Franceschiello? Lo troverete, la notizia, sul Daily Mirror. C'era un regista scozzese che stava facendo un documentario, questo regista si chiama Tony Carney, e realizzava questo documentario sulla vita dei giovani seminaristi irlandesi. C'è l'incontro di questi seminaristi con il compagno Francesco, e questi ragazzi hanno portato una bottiglia di whisky pregiato, e sapete cosa ha detto il compagno Francesco? Ha detto, appena ha preso il whisky e l'ha guardato, ha detto, ma questa è la vera acqua santa, e questa è la vera acqua santa. Il filmato è poi andato avanti, c'è stato l'incontro dei seminaristi, avevano concordato il documentarista con il Vaticano, che gli avrebbero inviato i file con le riprese fatte, e gli sono tornati indietro con il taglio di questo episodio, proprio perché in Vaticano non volevano far vedere questa situazione grottesca, immaginate quante persone hanno problemi con l'alcol, una mancanza di rispetto totale, per non parlare della fede cristiana. Ma come fai a dire al whisky, questa è la vera acqua santa, questa è la vera acqua santa. Compagno Francesco, ma non è che qualche bicchieruzzo te l'hai rifatto già prima, i tuoi comportamenti sono alquanto strani, io non oso dire diabolici perché mi sembra troppo, però, però, ma, va bene cari amiche e cari amici, ripeto, attendiamo la benedizione ruttando, perché quella ci manca, una benedizione urbi e torbi, anche non urbi e torbi, basta anche l'angelus, ecco, Francesco, tu che vuoi tanto essere dei nostri, poi non si capisce che sono i nostri, proprio le categorie più infime della società, fai questa cosa, dacci un altro segnale, fai la benedizione dell'angelus ruttando la prossima volta, bravissimo, eh, quella è la vera acqua santa, il whisky, il whisky, ma questa è la mia vera acqua santa, bene cari amiche e cari amici, e al prossimo siparietto, tanto è un continuo con il compagno Francesco, un caro abbraccio a tutti, mettete il vostro pollice su, Marco Cosmo.